l'animo Kita Group sta erro come Живaa ci sono persone no, no non so c'è un'altra cosa perdita ma che cazzo che andava a te che casino guarda che cosa perdita io non ho fatto per te per la torre è morto il mondo il padre che ti dava a casa l'acqua 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 e l'acqua si l'acqua per me ma io ho fatto il gioco per un po' per il per il non lo so la 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 il tuo app e 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 il tuo app il tuo app il tuo app ma che scherzzi come un'altra vita in quanto tu poi mi fa una foto quando mi avviate io e' pagina per ora che ti ha fatto pesce mamma non mi sono sceglie che carino guardate che è carino questo pesciolino se ci fanno la prova del palloncino mi sfido le scome sono per fermarsi le scome le scome sono per fermarsi le cosce per fermarsi le scome lui ha detto le scome che scherzi non è vero non è vero non è vero si è morto del pesce non è vero 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 il caffè lo poterlo buttalo giù buttalo giù buttalo giù andrea poco fa lo faccio ma ormai sta male perché ti sta riprendendo il pesce ormai non cambaccio fermo fermo non lo mettere sotto sopra mi 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 riprenditi riprenditi prego pesce riprenditi prego pesce riprenditi prego ok che non pesce effettuh non Grazie a tutti.